Sfuma nel ritorno della finale play-off il sogno del circolo tennis Le Rocce di Mascali di tornare nella massima serie. Infatti sarà il CT Massa Lombarda, dopo 12 anni consecutivi in A2, ad effettuare il tanto agognato salto di categoria. In terra emiliana sono le racchette massesi a fare bottino pieno, con una rotonda vittoria per 4-0, senza bisogno di disputare i classici match di doppio. La formazione del presidente Rosario Sciacca e del DS Angelo Larocca comincia subendo le prime sconfitte con Gianandrea Costanzo, che viene battuto da Ney Bonin, 6-0, 6-1, e Marco Di Prima, superato da Giuliano Cleppo, 6-4, 6-0. Poi arrivano le battute d'arresto che non ti aspetti. Gabriel Truio Soler si deve arrendere al 180esimo al mondo Thomas Fabiano, 7-6, 6-3, mentre Gianluca Naso tiene a galla i suoi fino al terzo set, ma cede ugualmente a Stefano Travaglia per 6-3, 1-6, 6-4. Si chiude comunque una stagione ad alti livelli per il tennis mascalese, con la permanenza in A2 senza passare per i play-out e i successi raggiunti nelle altre categorie. La promozione dalla D1 alla C maschile, l'accesso alla fase regionale per la D2 femminile e la vittoria del campionato regionale over 65 maschile.